Gesù passava di là e due ciechi si misero a seguirlo ridando «Pietà di lui, figlio di Davide!» Quando arrivò a casa, i ciechi gli andarono vicino e Gesù domandò «Credete che io possa fare quello che mi chiedete?» Essi risposero «Sì, signore». Allora egli toccò i loro occhi e disse «Come avete creduto, così avvenga». E i loro occhi cominciarono a vedere. Poi Gesù, parlando severamente, disse loro «Ascoltatemi bene, fate in modo che nessuno lo sappia». Ma quelli appena usciti parlarono di lui in tutta la regione. Ascoltatemi bene, grazie a tutti.